Il generale Santovito che poi pare fosse legato anche ai servizi. Era il responsabile dei servizi italiani. Kissinger, il presidente Gerald Ford americano, il Vaticano. Raccontaci un po' questa storia di queste partecipazioni. Nell'essenza già l'hai detto, perché di fatto nessuno di questi personaggi eticamente e moralmente ha appoggiato Rolando, anzi hanno solo cercato di sfruttarlo, ingannandolo e impedendogli di usare questa macchina per il bene dell'umanità. Tra l'altro Rolando ebbe anche un'uscita un po' così provocatoria quando disse che bisognava cancellare l'articolo 33 della Costituzione che dice che l'arte e la scienza nella Repubblica sono libere e libero nell'insegnamento invece con lui hanno proprio stracciato. Assolutamente stracciato. Di questo c'è un episodio riferito alla scienza perché il professor Zichicchi è ancora vivente. Rolando fu invitato da uno dei suoi collaboratori ma era anche uno dei servizi E Rolando lo sapeva? Sì, quando ha fatto questo già ormai lo sapeva che era... All'inizio no però? All'inizio assolutamente no. Dopo l'ha scoperto perché mentre si era appartato quando è rientrato in stanza la stanza ha visto un carabiniere che entrando lo ha salutato è scattato sull'attenti battendo i tacchi nei confronti del suo collaboratore gli ha steso una busta e poi è andato via e a quel punto non ha potuto nascondere che lui faceva parte dell'arma è che quindi all'inizio si è spacciato come uno che doveva proteggerlo ma in effetti era uno che doveva controllarlo ma come lo ha fatto Mancini come l'hanno fatto tutti quanti una volta che si è saputo di questa macchina delle potenzialità di questa macchina tutto il mondo occidentale ecco perché Kissinger scrive seguite questa macchina ad alta potenziale di energia è il presidente Ford che dà il via libera per trattare con loro perché quando l'ambasciata gli propone prima le prove da fare poi l'ambasciata americana quando sente questo gli chiede di fare delle prove entrano in una sforza di trattativa fanno le prove lui lascia i referti ed è la prima volta che Rolando Pelizza riceve una comunicazione che è preciosissima ma per il momento incomprensibile analizzati i fori fatti sull'acciaio gli americani hanno scoperto che su ogni foro c'è la presenza di 12 elementi diversi dal metallo quindi c'era già la trasmutazione potenzialmente c'era una trasmutazione e loro non giustificavano con la trasmutazione perché loro sono sempre andati avanti pensando che fosse un fascio laser diverso ma un laser sono partiti con quell'idea perché serviva un'arma tutti i fori e dopo sono stati riconfermati da altri studi ogni volta che sono fuori vengono fuori altri 12 sempre 12 elementi ma mai uguali a quell'altro ogni volta sono altri 12 elementi composti in modo diverso quindi c'era qualcosa che avviene che da quel momento diceva che c'era una trasmutazione ecco perché già da allora era chiara che si poteva fare la terza certo era evidente ma i primi a scoprito sono stati gli americani che gliel'hanno contestato come mai io faccio il buco i truccioli non vengono uguali quando gli americani hanno capito il potenziale gli hanno fatto una proposta un miliardo di dollari per il 50% dello sfruttamento della macchina firmati i protocolli e tutto quanto alla fine dici ma prima di prendere l'impegno bisogna che noi abbiamo una prova tangibile abbiamo dei satelliti che non ci servono più siccome la macchina arriva a 1500 km questi stanno molto più in base queste sono le coordinate tirali giù ma quello è un atto di guerra Rolando Polizia strappato tutto l'ha mandato a quell'altro paese perché il giuramento a cui hanno sempre mantenuto fede sta nella lettera del 26 febbraio del 1964 tieni sempre presente il giuramento che abbiamo fatto per nessun motivo anche a costo della vita sarà ceduta come strumento bellico ma dovrà essere usata esclusivamente al fine di migliorare la nostra esistenza come Benzai la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi